non vedo un cazzo no scusa non volevo non volevo non è vero non sono stato io è stato non è vero ragazzo sta eccolo che energia sto messo bene di stamina pure non sono stato io non cazzo non vedo un cazzo non vedo un cazzo scusate dopo per un piccone tranquillo dormi dentro la caverna ma pop pop porco di che rimango così per compito che vinci porco ho sentito proprio aprire la porta non c'è niente da fare però forse vedendo buio se ne va che cazzo ne so a porco di di io potrei anche visitare la città ma se non vado lì entro le 17 lo sceriffo si incazza o ma qui che è la ge ma chi sei ma che cazzo ma che te sei in culo ma vattene affanculo non mi avevano ancora abilitato poi quando ho iniziato la live me ne hanno abilitato perché dovevo completare ancora tre cose oh ma ti levi no non ci posso credere non ci posso credere sono scappati regga sono scappati fermi fermi no no pound 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 nemmeno questo devo riprovare lo scelgo uno the at log oh maledetto oh guarda che maledetto oh ma che sei nooo se c'è qualche domanda devi contattare quello non sa la magna a merda oddio ma son maniata io ma come io ok passo di qua orco de 2 che stronzo oh ma che cazzo stai a fa oh niente redbull ho finito tutto bisogna edifica bella che si dice che si dice eh ma come si incula quello però quello del baywatch è così aspetta è così così basta sennò se casco sotto non mi rialzo più cioè quello si sta si sta a fare una cosa davanti ai morti come se e e faccio balla pure il personaggio guarda le azioni che faccio questa è l'azione da fenomeni attenzione corre verso la meta lo vuole distruggere lo vuole distruggere arrivo si è cretino non si è rotto ma non si rompe come no? si non è rotto oh dai mi fate parlare mi fate parlare mi fate parlare oh dai oh dai mi fai parlare oh dai oh mi fai parlare mi fai parlare mi fai parlare oh dai oh vabbè io mi fido basta 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 non avevo chiuso la porta che cretino ma tutto torna lì come cambia cioè dov'è non lì nooo on on mo? mo? no 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 Sì